Allora Massimiliano, quinto risultato utile consecutivo ma in casa bisogna fare di più? Sì, sicuramente bisogna fare di più, ho già detto nelle precedenti interviste però penso che in questo momento sia importante guardare il bicchiere mezzo pieno. Stiamo da 5 per te, non stiamo perdendo, è importante, stiamo facendo delle prestazioni molto positive a mio parere. Comunque sono d'accordo con voi che bisogna dare in più perché se vogliamo arrivare alla vittoria qualcosa in più sicuramente bisogna dare. Stiamo lavorando, stiamo lavorando alla grande e speriamo arrivare il prima possibile. Ecco appunto come dicevi, volendo guardare il bicchiere mezzo pieno è la seconda partita consecutiva in cui non prendete gol, però anche la seconda in cui non ne fate. La sensazione è che questa squadra faccia un po' fatica ad arrivare al tiro, un grande mole di gioco, molto possesso palla ma si fa difficoltà ad andare alla conclusione. Perché questo secondo te? Io penso che con l'Ascoli non abbiamo fatto fatica ad arrivare alla conclusione. Oggi un po' di più perché loro si difendevano molto bene, si difendevano in 11 sotto la linea della palla e non è facile anche perché erano molto organizzati. Abbiamo provato ad allargare la palla sull'esterno ma marcava un uomo sia Gigi che Ricchi, è molto difficile. Poi penetrando centralmente con una squadra che si chiude molto bene è difficile perché ogni palla che magari verticalizzi si mette in difficoltà la punta perché è comunque già pressata o magari gli diamo noi la palla non molto bene. Quindi non è così facile. La prestazione secondo me è positiva perché abbiamo fatto quello che dobbiamo fare e purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di riuscire a buttarla dentro. Ci sta, fa parte del calcio, prima o dopo arriva anche il gol. Un giudizio sulla tua stagione in conclusione. Ti sei impadronito letteralmente del centrocampo, il mister punta tantissimo su di te e si è sentita la tua assenza nella partita casalinga con Lentelli in cui eri squalificato. Che stagione è stata la tua fino a questo momento? Come ho detto all'inizio, sono contento di essere venuto qua a Salerno perché volevo confrontarmi con una piazza importante. Siamo a centrocampo, siamo tanti e tutti che spingiamo per avere un posto. Non sono d'accordo con te quando dici che con Lentelli si è vista la mia assenza perché Mosis è assolutamente degno di un posto in questa squadra. Per adesso non ti posso dire che sono contento perché la classifica non è quella che vorrei, però mi alleno ogni giorno al meglio per avere la maglia titolare e poi sta il mister a decidere.